Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti ragazzi siamo qui con il gameplay di Bol Bol Invincible che è uscito venerdì dalla collezione Splash Zone sinceramente una delle prime reward di una collezione quest'anno a parte all'inizio game sono abbastanza soddisfatto perché comunque Bol Bol avevo detto che non lo bloccavo insomma alla fine sono riuscito a bloccarlo ho venduto Lebron un pochettino deluso per quello Ma adesso andiamo a provarlo raga l'ho appena bloccato appena preso i giocatori Michael Porter 730 e più o meno tutti gli altri erano abbastanza bassi completamente buggato raga io lo uso dalla piccola Simons, Kirilenko, Bol Bol, B, Russell, Karim e purtroppo sta mezza pippa qua devo metterlo come 4 e Chris Webber mi sta facendo abbastanza Forse un upgrade che potrei fare potrebbe essere un playmaker nuovo che potrebbe uscire però Simons mi sembra abbastanza totale e B, Russell forse metterlo in panchina e prendermi Giannis vendendo 1 e 1 o 2 magari si ritornano alti abbastanza oppure anche Kirilenko bisognerà vedere comunque vabbè adesso gioco come con 4 B, Russell e niente raga Badge ce li ha tutti ce li ha 7 e 2 raga badge li ha tutti tutti 99 c'ha tutti i badge completamente tutti quelli che servono Tormentatore contro l'ottimo sangue fra di generale in campo campana passatore o besti qua non servono a niente il resto c'ha tutti i badge off raga completamente Eccoci qua ragazzi andiamo a provare un pochettino la release di Bol Bol nel momento in cui spezza il polso voi dovete lasciare Ovviamente sto tirando in modalità Hall of Fame Quello sbocco di Hall of Fame eccolo lì Perfetto bravissimo Che ne avevo detto raga speed boost questo qua questo giocatore qua fa uno speed boost e va canestra 1 2 speed boost tutto il campo Clamorosa carta veramente veramente clamorosa Madonna Bol Bol quanto quanto è lungo raga Bol Bol Ma che è oh Lì big green Lì Finta Bam dietro Ehi C'è lì C'è lì C'è Motoretta La crema proprio Poi abbiamo detto che c'ha il pro 2 e il pro 3 Completamente bugati se magari mi passi la palla grazie Tutto il campo così raga Tutto il campo completamente in questa maniera qua Quick stop molto buono Molto buono quick stop Bella raga adesso andiamo a provare un bel unlimited A vedere un po' fare schifo in questo unlimited Mi sta veramente confondendo le idee Questo unlimited è sempre di più Veramente Veramente sempre più ridicolo questo unlimited Questo unlimited scusate Vediamo un pochettino che è il nostro avversario Vai di screen Ma raga Stiamo scherzando Eh Massivamente Dei indolla Fì è tutto portano raga sto qua Minca sta tutto portano sta Dami sta palla Subito così Chill 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 Pulito Lì in testa tira lì Bam Ball ball Big 3 Let's go Raga avete visto la velocità La velocità di esecuzione di ball ball Dall'angolo tra l'altro è anche molto più veloce il tiro Ok 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 buona buona defense Ok è già Sta già a pezzi questo Ok Good defense Chill 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 Ball ball With the show time man Puntiamo sui show time Buona Alla girare Bella Bella azione Raga meritiamo Meritiamo Raga da 3 questo eh Guarda qualche roba che entra tutto Tiro pure da centro campo Entra tu Qualsiasi cosa Ok Lì Leonardo Eh io lo so raga Te mi lasci il tiro così eh Me lo stai Me lo continui a lasciare Raga una show time Let's go Come on Sì Salta Ball ball Big 3 Niente Beh contestato bene raga Bravo Jabbar Mol Lotta Niente Tiro Barra Ma una volta che vedo la barra È un cavamento di occhi Sì No Vabbè dai Ma che sta a fa Ball ball raga Bello il taglio Buono Eh buona defense raga Buona defense cazzo E se abbiamo difeso bene raga Sì ball ball Show time Ball ball Sì così A bugare con ball 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 another Another steal Ball ball Big green Ball ball A casa Ball ball Benvenuti raga Facciamo un'altra al limite Perché quella di prima è andata Diciamo Abbastanza Abbastanza veloce Vai Oswald Figliati sta boccia Eh godo abbastanza raga qua Va godo molto Sono sincero C'è c'è Mid Ball ball 2-0 Pressing a tutto campo Non trappola magari Repressing Niente Non ne piglia mezza nessuno Bravo ball Bravo Karim Bravo Inutili proprio Karim Karim Sì pulito Vinta Bravo Si godo Ball ball C'era qualcun'altra Stoppata questa Perché figa Ha schiacciato in In pochissimo Bello Godo Hai ball Si ball 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 With the jelly Vieni qua ball 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 Con quelle schiacciate Un po' così Instoppabili Madonna Dai buono Ma che la passa sotto Tira No Bravo ball Bravo ball ball Elevati Non saltano mai raga Karim Avdu Shabar Niente Bravo ball 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 Stopp Niente Vado il rilascio Raga Altra showtime Altra showtime No Dai Più sono scarsi Più divento Scarso Ma che è sta roba Raga Cavatemi Sti cazzo Di occhi Shit Bull ball Completamente Ignorante Sto tiro No senso Fatto entrare Perché siamo in un limit Perché entra tutto Oddio Sì Bull ball Bang Quick stop Esagerato Boh Non lo so Raga Veramente Qua non ho schiacciato niente Forse solo quadrato Bull ball Big ring Bang Quittone Esagerato Bull ball Cheers Bella domanda Bella Bella domanda Sì Bull ball Primi due Bull ball Sì Difference Però Non ci posso credere Raga Ma vedete qua C'è la lentezza Dei miei giocatori C'è veramente Raga È ridicolo Non fanno un verde Che sia uno Non fanno Un verde Bull ball Ego Difference Bravo Un bel air ball Come piacciono a noi Bull ball Again Two points Manco a far così Manco Ma che è? No Ma quittano tutti Raga Contro Bull ball Quittano Veramente tutti Bull ball Assolutamente Secondo me È una delle carte Più forti del gioco Assolutamente Senza ombra di dubbio Se sia worth O no È quello È un altro È un altro discorso Secondo me Bisogna Pensare Secondo me Bull ball Va fatto Se si ha La possibilità Cioè se si hanno I soldi E se si ha Già un buon team Perché comunque Come dico sempre La piccola Secondo me Non ci sta Tanto spendere Se comunque Non avete la squadra Già tanto Diciamo Quasi Da end game Quindi Vi consiglio Di farlo Solamente nel momento In cui Avete la possibilità Di farlo A livello di soldi Avete già una buona squadra E niente ragazzi Spero che vi sia piaciuto Il gameplay Ci vediamo In live Un bacione a tutti Un abbraccione Grazie mille Ciao ragazzi Ciao ragazzi Un abbraccione a tutti